A che livello sei caduta, cara Lilli? Ma lo sai che Lilli Gruber ha parlato di noi? Così? Riteniete Mario Giordano un vostro collega? Se faccio un verso sai chi è questo Giordano? No, per me Mario Giordano non è un collega. Ebbene sì, cara Lilli Gruber, ho una brutta voce. Che ci vogliono fare? È un mio difetto fisico? Ti chiedo scusa, vi chiedo scusa. Ho una brutta voce, ho un difetto fisico. Ma che la regina del politicamente corretto prende in giro, attacchi una persona sui suoi difetti fisici, beh, a che livello sei caduta, cara Lilli? A che livello sei caduta? Se poi, cara Lilli, per essere tuoi colleghi bisogna partecipare alle riunioni dei riconi del Bilderberg e farti vedere sugli yacht, eccola qua, farla vedere Donato, sugli yacht con De Benedetti, ebbene allora a Lilli Gruber io sono orgoglioso di non essere tuo collega, perché io al Bilderberg non ci vado e sulle yacht con De Benedetti neppure ho questa brutta voce e la uso per urlare, per cercare di risolvere qualche problema degli italiani. Grazie. 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 Grazie.